L'input è chiaro, parte dal Nord Sardegna in direzione Cagliari. Il distretto delle ruralità del Nord Sardegna, forte dell'adesione di tutti i comuni della Gallura, della bassa valle del Cuginas, del Lugodore e cinque centri del Goceano, richiama la regione. Serve l'impegno politico regionale per dare gambe e quindi fondi ai tre contratti di filiera rientrati nella graduatore del Ministero delle Politiche Agricole per 50 milioni di euro a contratto, ma non finanziati. Affinché la graduatoria scorra, è necessaria la copertura finanziaria di tutti i progetti ammessi. Siamo in graduatoria, sono state pubblicate recentemente le graduatorie da parte del Ministero, però è necessario che il governo implementi le risorse in modo che la graduatoria possa scorrere. Credo che la regione possa dire la sua, deve fare tanto per spingere il governo a credere nell'agricoltura, a credere negli strumenti dei contratti di filiera, che sono fondamentali per la crescita dei territori. Il distretto ha un obiettivo importante, indicato come una sorta di piano Marshall per l'agricoltura, contro lo spopolamento, l'abbandono delle campagne e per la crescita delle imprese agricole. I tre contratti di filiera che hanno tenuto l'ammissibilità da parte del Ministero riguardano il settore carni, quello lattiero caseario e il multifiera che abbraccia il vitivinicolo, l'apistico e altri settori caratterizzanti del territorio. Grazie per la visione!